Non sempre si può fare qualche se vuole. E non mi ti dico che dietro ai problemi tante volte si nasconde la grande occasione. D'accordo, signor Doris? Ma questo Doris è arrivato, sì o no? Eccomi. Tu saresti il ragioniere. Ti sei fatto un'idea del lavoro che c'è da fare qui? Si dovrebbero organizzare le cose diversamente. Portare la banca da loro. Io voglio aiutare le persone a vivere meglio la propria vita. Le barriere fra società finanziarie, banche e assicurazioni devono cadere. Posso stringere la mano a una persona che ammiro molto? Il mio sogno è fare una banca. Un'altra? Ce ne sono già troppe. Ma ne sono come la mia. Io lo sai che se anche vivessi cento vite io le vorrei vivere solamente accanto a te. All'infinito. Abbiamo fatto le verifiche che hai chiesto. Quelle sui nostri risparmiatori che hanno nel loro portafoglio polizze indicizzate dall'Allemans Brothers. Sono più di diecimila. Se li dobbiamo aiutare, aiutiamoli. Pare che Eno Doris domani voglia parlare a Piazza Affari. Ci sono in ballo 120 milioni di euro. Guarda che non sei più quel giovanotto che voleva cambiare il nostro mondo. Ma credi davvero che il tuo socio ti seguirà in questa bufonata? Ascoltami, tante cose le dovrebbero essere diverse. Ma ricordate sempre, c'è anche domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.